Oh, i casi giurisprudenziali, qua iniziamo a divertirci, giusto una carrellata. Il David con il Mitra, il primo, quello più noto è questo, Ministero della Cultura contro Armalite, che è una società americana che produce armi e ha fatto questa cosa a Work of Art, il fucile AR50A1, è un modello che producono loro e per far vedere che è un'opera d'arte, cosa fa? Lo mette in mano al David di Michelangelo con uno che lo guarda sotto e dice sei bello, no? Questa è la fotografia, lascio ai nostri studenti valutare il gusto e la bellezza del messaggio pubblicitario, non sono del settore. Però cosa succede? Che il Ministero non fa neanche causa, perché? Perché appena vista la campagna esce un tweet di Franceschini all'epoca ministro, 2014, l'immagine pubblicitaria del David Armato offende e viola la legge, agiremo contro l'azienda americana che deve ritirare subito la campagna. Si muovono probabilmente a livello diplomatico, l'azienda americana non vuole scocciature con il governo italiano, la settimana successiva sparisce la campagna, cioè non si trovano più tracce se non come storia, come pezzo di storia. E quindi non abbiamo una sentenza, io l'ho messo come caso giurisprudenziale, ma non è un vero caso giurisprudenziale, perché non abbiamo la decisione del giudice. E tanti ne sono finiti così, eh? Nel senso, questo è quello noto. Chissà quanti sono finiti così e noi non li conosciamo, capite? Non sono arrivati in giudizio, non solo. Quando fai, e te lo dico da avvocato, quando chiudi una questione che magari può essere a livello di immagine un po' fastidiosa, la chiudi sempre con una causa di riservatezza. Quindi tutte e due le parti dicono, ritiriamo tutto e ci impegniamo a non dire un cacchio in giro, a non far sapere la cosa. E quindi tu non lo saprai mai davvero. Questa invece è arrivata a sentenza, o in realtà a ordinanza, che è una cosa diversa. Comunque è andata di fronte a un giudice. È MIBACT contro Visit Today, sempre qua a Firenze. L'agenzia Viaggi Visit, scusate lì, ecco vedi l'errore trovato, Visit Today proponeva tour a Firenze utilizzando, senza preve autorizzazione, non solo, faceva una cosa un po' più, faceva dei biglietti, che erano dei biglietti non originali, dei saltacoda erano. Usava la foto dei saltacoda per la galleria dell'Accademia usando l'immagine del David. Quindi non solo promozione, ma c'era anche un po', ma faceva sembrare che fossero dei biglietti che venivano davvero dalla... Comunque vanno di fronte al giudice, il ministero agisce e ottiene un'ordinanza che stabilisce l'immediato ritiro dal mercato di tutto il materiale pubblicitario diffuso indebitamente e condanna l'agenzia a pubblicare il test dell'ordinanza su tre diversi quotidiani a diffusione nazionale e tre periodici scelti dalla galleria dell'Accademia, oltre che sul sito web della società, dell'agenzia privata. E la condanna inoltre al pagamento di una penale pari a euro 2.000 per ogni giorno di ritardo e non ottemperanza. Questo succede sempre nei provvedimenti cautelari, poi non li paghi davvero, nel senso che se tu ti muovi velocemente, non fai passare giorni, non paghi le penali, se no il giudice stabilisce a priori che per ogni giorno di ritardo c'è già una quantificazione del danno. Se sei in ritardo sì, non solo, ma poi hai pagato anche, non hanno pagato nulla alle gallerie dell'Accademia, però hanno pagato i quotidiani, cioè se tu devi pagare Corriere della Sera solo le 24 ore e quotidiano nazionale, ti dà una bella, sì magari è un trafilettino nella zona dove c'è, però insomma ti fanno pagare, sì indubbiamente. Però ecco questo è diventato un po' una pietra migliare, è diventato un po' il nostro primo caso giurisprudenziale è basato su quelle norme. Il secondo è Teatro Massimo di Palermo contro Banca Popolare del Mezzogiorno, in realtà più propriamente la Fondazione Teatro Massimo, che è l'ente che tutela il bene. Qua immagine tratta da Commons, con citazione. Cosa faceva? La banca ha fatto del materiale pubblicitario utilizzando per simboleggiare il centro di Palermo, era la città al centro, mi sembra il titolo della campagna, c'era il Teatro Massimo. La Fondazione agisce, di fronte al Tribunale di Palermo tiene una sentenza, quindi va a completamento del percorso giurisprudenziale con una sentenza quindi nominata in nome del popolo italiano, pronunciata in nome del popolo italiano, con riconoscimento di un danno patrimoniale quantificandolo in poco meno di 5.000 euro, perché in teoria doveva essere di più, però come riferimento avevano il famoso tariffario del 94, che aveva delle cose in lire trasformate in euro, quindi non aggiornato. L'altro, è anche qua vicino, diciamo qua in Toscana, è di quest'anno febbraio del 2022. Ministero della Cultura contro studi d'arte Cave Michelangelo, non so se lo conoscete, è una società privata, un SRL, che realizza riproduzioni di pregio in marmo di Carrara, fatte da scultori che si addestrano lì presso i loro studi d'arte, e se tu vuoi a casa tua un piccolo Davide Michelangelo fatto in marmo di Carrara, non so quanto costi, te lo ordini e te lo fanno. Cosa fanno loro? No, è un rifacimento, però attenzione, sì sì, c'è scultori che lo fanno, sì sì sì. No, la cosa che fa ridere è che loro sul loro sito promuovono il loro materiale. Il Ministero dice, no, però la gente dopo pensa che quelli siano foto del David vero, e quindi in teoria stai comunque sfruttando l'immagine del bene. No, no, leggete cosa dice, l'utilizzo dell'immagine del David sul sito di un'impresa commerciale, idoneo a svelire l'immagine del bene culturale, facendolo scadere ad elemento distintivo della qualità dell'impresa, che attraverso il suo uso promuove la propria immagine, con uso indiscutamente commerciale, che potrebbe indurre terzi a ritenere, sì fatto, libero, utilizzo, lecito o tollerato. Infatti ti ricordi che ti ho detto, invitiamo quello là della... Allora, qua siamo un po' fuori dall'ambito delle riproduzioni, come ne intendiamo noi, però sì, perché loro fanno le foto ai loro prodotti. Infatti, qua lo dico, questa è una sentenza, è in realtà un'ordinanza, non una sentenza, un'ordinanza, perché è importante, perché fa un passo avanti, cioè interpreta le norme e parla effettivamente di una sorta di diritto d'immagine, perché se tu non puoi neanche diffondere le foto fatte alle tue riproduzioni di marmo, allora non è un problema di riproduzione del bene culturale, ma proprio dell'immagine del bene culturale, e quindi è un diritto d'immagine, che a me piace tantissimo, perché allora vuol dire che è un diritto connesso, allora vuol dire che è contrario alla direttiva europea. Cioè, questo giudice è un genio assoluto, non so se l'ha fatto consapevolmente, però se abilitiamo questa interpretazione che questo diritto articolo 107-108 è un diritto d'immagine, allora è un diritto connesso, allora è contrario alla direttiva europea. E quindi gli avvocati dovrebbero, gli passo questa dritta, dovrebbero fare appello e sollevare la questione di fronte, cioè il conflitto tra norme. Vabbè. Arriva questo, è più recente, non si sa ancora come andrà, infatti lo metto in questo capitolo, ma boh, porterà sentenza o finirà come è finita quella là che si mettono d'accordo tra di loro, firmano un accordo di non divulgazione, di segretezza e noi non sappiamo bene se Uffizi e Jean Paul Gaultier si sono accordati o semplicemente uno dei due ha mollato l'osso. Oppure, boh, io voglio vedere, magari Jean Paul Gaultier dice, no, io tiro dritto, fatemi causa, vediamo cosa succede. Non lo so. Però, siamo qua, la nota a casa di moda lancia una linea di vestiti su cui sono stampati alcuni grandi classici della storia dell'arte. Non è l'unico, Botticelli, ce ne sono tanti altri modelli. Possiamo discutere in una scuola come questa se sia una linea bella, di buon gusto, di cattivo gusto, una pacchianata, non lo so, non sono un esperto di moda. Però hanno lanciato sicuramente una provocazione interessante, quasi più interessante di questa. Dopo è la perla, finissima, finale. Le gallerie degli Uffizi e Ministero Cultura hanno espresso pubblicamente a loro contrarietà e quindi non sappiamo bene come andrà a finire. È questione di poche settimane, credo. E poi c'è quello che io stavo anticipando prima, il caso degli art influencer. Adesso si è parlato molto di questo Roberto Celestri, bravissimo, l'ho visto, fa dei video, delle foto molto belle, ma io ne seguo anche alcuni minori. Su TikTok, dove invito il direttore Fumelli a unirsi. C'è uno bravo, TikTok ad esempio parla di, so, tipo scorci di Roma non famosi o scorci di Torino, cose da fare culturali a Torino, che è una città che secondo me è bellissima ma sottovalutata a livello turistico. Quindi io li seguo, però effettivamente il dubbio che questi qua ogni tanto incrocino il diritto a 107-108 beni culturali un po' mi viene. Perché c'è gente che ha 500.000 follower. 500.000 follower inizia a guadagnare qualcosa. O no? Oppure vale solo, se ti chiami in un modo, cioè, che poi il discorso dell'art influencer ci fa pensare a Ferragni che è andata a fare la, come dire, la comparsata e stretta di mano. Che piacere avere la Ferragni, il direttore che la ospitava, e dire ah, che bello, grazie che tu stai dando lusto al nostro museo e lo fai diventare noto anche presso i giovani. Il discorso è tutto quello. Poi altre che fanno un mestiere più o meno simile sono andate e hanno fatto una cosa un po' diversa, che non ce l'ho messa perché mi sono contenuto. Però, insomma, altre influencer sono andate e si sono presentate diciamo in abbigliamento non proprio consono al museo. Ok, possiamo discutere sull'abbigliamento. Ma non è che hanno fatto una cosa... Esatto, hanno fatto la stessa cosa. La differenza è che o una sì e le altre no. E lì torniamo al discorso della discrezionalità che dicevo prima del perché una da lustro e l'altra in fanga. Sì, ripeto, lì avevano fatto quella cosa riprovocatoria di mettersi a seno quasi nudo o con vestiti un po' così. Però se non avessero fatto quella cosa allora loro non andavano bene e la Ferragni sì. Cioè andiamo su un piano che è quello morale su cui è difficile che un dirigente pubblico possa esprimersi. Perché un conto è se si esprime il parroco o il vescovo o il predicatore. Un conto è se si esprime un funzionario pubblico e dire questa cosa qui sì e questa cosa qui no perché è contrario a una morale. È veramente un terreno scivoloso. Comunque, lascio aperto il dubbio sugli art influencer perché è promozione oppure uso commerciale. È valorizzazione in che senso? Vi ricordate quella norma che diceva se lo fai per promozione e divulgazione allora sì, però deve essere comunque uso non commerciale a uso non di lucro. E se uno ha un milione e mezzo di follower dimmi che quella roba lì non è a scopo di lucro. Dai, siamo onesti. Quindi boh.